Per l'ultima settimana del mese di maggio siete su notizie in un click, io sono Loredana per la giornata di oggi 27, qui per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Esther O. von der Leyen alla ricerca della sua maggioranza. Venerdì 31 maggio arriva al Tartini di Trieste la giornata della musica e ancora per eventi, cultura e spettacolo nel buio le stelle, il nuovo libro di Enza Eleonora Trocino. Ippica, piazza di Siena, siglato l'accordo fra la Masaf e la Fise. Prezzi a su utenti, carta igienica, uno dei beni più colpiti. Sheer Fraction, spero di averlo detto giusto, questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Grazie per essere stati con noi e io vi do appuntamento alla nostra prossima mini rassegna Loredana.